59 migranti saranno ospitati all'interno del CAS di Moscufo. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento in Abruzzo di 200 migranti sbarcati a Lampedusa. Dunque la struttura di via Cristoforo Colombo, che sembrava destinata alla chiusura a stretto giro, torna ad ospitare migranti con grande preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. Il Comune di Moscufo da parte sua non è che ha problemi di accoglienza di questa natura, il problema è capire se è umanamente giusto tenere 50 persone con delle restrizioni da quarantena in una struttura che ovviamente potrebbe andare in difficoltà, quindi il Comune di Moscufo si sta facendo carico di fare questi controlli. Oggi pomeriggio avremo un incontro, proprio un tavolo tecnico con il prefetto a Pescara, in modo da capire bene come doverci comportare. Saranno garantite delle turnazioni di sorveglianza per una questione di sicurezza, appunto perché sono persone che devono rispettare la quarantena, come abbiamo fatto tutti quanti in questo periodo. Però quello che a noi ci preoccupa è soprattutto capire come 50 persone riescano a resistere in un appartamento di non so quanta capienza. I servizi igienici, ci sono dei parametri che dai protocolli ASL vanno rispettati, presumo che anche in questo caso debbano essere rispettati, come giusto che sia. Io purtroppo ho cercato di fare un lavoro molto preciso e sensibilizzare la gente per cercare di evitare il Covid. E ci sono in parte bene riuscito, in quanto riuscivo a fare anche un porta a porta nelle abitazioni per coinvolgere le persone. L'arrivo di queste 50 persone mi fa paura in quanto può vanificare il lavoro fatto da me e la collaborazione di Moscofo e dei moscofesi per cercare di non arrivare a delle situazioni strane. Di senso e preoccupazione per questa decisione arriva anche dalla politica regionale. Riteniamo assolutamente inaccettabile, improponibile e illogica la decisione di portare 50 soggetti appena arrivati in Italia con gli ultimi sbarchi illegali in un cas di Moscofo, le parole del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Una scelta non condivisa con alcuna autorità territoriale calata dall'alto su una popolazione già duramente colpita dall'emergenza Covid-19, peraltro al confine con una ex zona rossa. Riteniamo impossibile chiedere di dirottare le già poche risorse disponibili, in termini di uomini, forze dell'ordine ed economiche, sulle necessità straordinarie determinate da tale accoglienza. A nulla sono valsi i tentativi della regione Abruzzo di invitare il governo, per il tramite delle prefetture, ad una riflessione circa alle valutazioni del rischio sanitario che tale decisione poteva comportare. Le parole dei consiglieri Testa e Sigismondi. Gli immigrati, infatti, arriveranno senza che gli venga effettuato l'esame del tampone, ma solo il test sierologico. È inconcepibile il comportamento che sta assumendo il governo sulla tematica estremamente delicata come la gestione degli immigrati, soprattutto in questa particolare contingenza. Di senso anche da parte dell'assessore regionale Piero Fioretti, il quale questa mattina ha partecipato all'incontro in prefettura all'Aquila in merito al collocamento sul territorio regionale dei migranti. Fioretti ha rappresentato ogni immotivato di senso, soggettivo e oggettivo, in logica sia politica che territoriale, anche sulla base dell'emergenza epidemiologica in atto, nonché della crisi economica post-pandemica che stiamo attraversando, con aspetti negativi non trascurabili in riferimento alle caratteristiche turistiche di ogni realtà abruzzese ed il rischio concreto di apertura a focolai di infezione.